scienza allora questo fa cagare questo preso subito però pesco due scarto no è che prende le terre scusate per curiosità però non c'è veramente altro c'è anche il keldon che non è male o il counter sì però i peschini sono tutti forti mi sa che prendo il counter invece il counter è forte vero peschino ha un odore strano ma non sono io ok sì sì ho 5 mana per le attive certo ghast ghast sempre si senti puzzo e c'è anche della scella questo è inutile sì ma la roba è minuscola io pensavo ci fossero i boboni giganti peschino bobone no che cazzo dico rox minchia op op mmm potrebbe essere interessante lui se la roba non è grossa come pensavo potrebbe essere interessante però non abbiamo un cazzo di roba multicolore per ora per ora prendiamolo a questo punto sto facendo il draft omniscienza scartino questo è un 5-5 di primo ci serve non è meglio il sandworm eeeh c'è brain eyes ma chi è che le passa o ma lo sanno come si gioca a questo formato anche questo è OP ah è bot è bot è vero scusate ok quindi ce l'avranno tutte le cose mostruose mmm fanno tutte cagare queste si è fatto incantesimo la tua con volare mi prendi due si però anche le creature ora vabbè bobone peschino ma è una volta a turno o una volta nel tuo turno domanda importante ma posso attivarlo nel mio e nel suo? sennò questa è counter secca pure ora la piglio tanto è meglio di fog sicuramente vabbè ho vinto a posto ok ora solo creature eeeh tributer forte mmm non serve a un cazzo questo è scarta 2 però eh scarta 2 è forte però devo prendere più creature ora peschino questo è forte anche lui è pesca però deve connet lui è figo e mi fa da da pezzetto multicolor nel caso il testing è andato molto 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 bene creatura o veicolo distruggi giganto pesco boia fortissimo gigante fortissimo fileroni del cazzo prendo il death touch perché pare boboni rumours eeeh tutto cagare filler anche perché mi sa che tocca giocarle tutte quindi lui è carino oh ex contro gli scartini eeeh meglio lui lo fa direttamente senza pagare il mana scartino questo è figo ma non ho troppe robe grosse sto blinka ma chi se ne frega vigilari non vorrei avere troppi scartini però alla fine perché qui prendo removal lui è figo si oh è interessante interessante l'angelo questo è forte ma secondo me i peschini siamo messi bene con con il beast whisperer ci servono molto più creature adesso questo è OP però questo è fortissimo 6-5 a 0 io spero tutti avranno i mazzi forti quindi io spero che semplicemente la gente non abbia idea uuu no è instant sorcery questo non si sa mai dai vola e spero semplicemente la gente sia scema questo scarta prima non mi piace come si è messo a creature 20 22 non voglio go blank dai ragazzi non giocheranno che devo dire bobone due per uno sempre buono può cagare 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 chat spam fuori per matte non so perché ma chat sicuramente lo sa se lo sa morde non direbbe mai una cosa del genere a caso quindi spero meglio ciò che spam cuore colgo uno scartino perché siamo pronti dai dobbiamo confidare che la gente ha draftato a cazzo di cane noi siamo ben conci di come funziona l'omniscience ho vinto e ti segue non è abbastanza in questo formato sciem non stai pescando bro ciao 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 Troppi scartini De Cosa ci fa? Eh lo so che è un formato stupido e meme Però basta puto ce lo ha Bravo scemo è più forte di questo Ok Boom Ottimo Ho la combo Gas il criptide Ma mi sta bene dai Azz Azz Ha giocato il missile Eh ha giocato il missile Assolutamente io qualche volante ce l'ho Eh non voglio che muoia Vabbè per ora è un 6-6 Lo devo togliere il problema io Dove ho togliere il problema Lo toglierò subito Ora mi toglie il volante Eh devo pescare bene Ok ho pescato abbastanza bene Ah sicuramente non può tenere le carte in mano Che il caldo glielo spara When I dream Oh That's what I dream you never do Eroi dei precotti Va bene Stempiato Godo Allora qual è più forte? Allora questo si scarta sicuro Però cambia poco Quanto vale Quando entra nel campo di battaglia Non mi serve dare niente adesso La lingua La lingua Portuguesi Portuguesi 99 problems Grazie problem Posso farlo nel suo no? Sì No No madonna Con lo spagnolo Con il portoghese Ora sbaglio Il mago De guida De culto Forse un po' me le sblocca Questo riprende in mano Un ninja No riprende il bobo Dio merdone Aia E poi effettivamente il draft omniscienza con le carte brutte è più schillato Di velole carte porte Eh no è quello non ci sono boboni veri gigante Non ci sono Sì sicuramente Ugi in turno 1 non c'è più Che è una cosa buona Però effettivamente qui te la giochi la partita Non è che inizia primo vince Boh molto più forte Shanna Però vabbè Indecchiamente i 14 turni ho vinto Cos'è vire? Aiuto? Cosa faceva questa? Non me lo ricordo più Tappa? Maledetto il portoghese E tappa Ok Mi tocco Mi tocco Mi tocco fortissimo A godere Stato a goduto Is this lethal? Non lo è Mamma mia il trenino Sto pazzo fa tutto cagare A parte Voring Clicks E lui eh Comunque 7 wins Sì 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 Ok abbiamo vinto L'expertise ragazzi Noi sappiamo cosa draftare Noi sappiamo cosa draftare Nell'omniscienza Noi su tutte le carte del mazzo C'hanno scritto pesca una carta Cazzo Siamo fortissimi siamo Figa Dio Figa Figa Fortissimi Let's go Bella Pelli Non è la quantità del tempo La qualità Cos'è? Easy Già ammulligato Uno E non capisco perché Allora Se è ammulligato Ha draftato male A parte un mulligan è gratis Un mulligan è gratis Credo Cotta Poverino È leggere Leggere brutto eh Non c'è rolling vortex nel pool Maffi È impossibile È troppo forte E speriamo di trovarne altri Una brutta mano Stam free mulligan per me Sembrava un mazzo standard Contro un mazzo legacy Contro vintage Contro vintage Dai che faccio il free mulligan anch'io Prego Trenino 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 incoming Questa secondo me è la carta più forte in assoluto Anche questa non è male Niente Tutto bello che pesca ragazzi È fuori di testa Amore è un draft Che parte con tre carte Ma tutto costa zero Quindi Massima Cioè lo dico anche per chi vedrà magari il video su youtube E E vuole E lo deve provare Massima Ma veramente massima precedenza Tutto ciò che pesca Cioè tutto ciò che pesca è fuori di testa Che cazzo ti millite Chiedo Cosa hai nel cemitero di bello Allora divesta subito Subito Vediamo se c'è il removal Lo devo vedere Sì Questa tutto a zero Ok Non è il removal È blink Può blinkarmelo però ora E ho vinto Ho vinto Basta Non può rispondere a B2 Spero ero vinto Spero DG Eh concedi Ce l'hai fatta Cazzo Cioè nel senso Se ti faccio bistu Se ti faccio bistu Sperer di primo Ho vinto Fine Cioè Concedi Vai a quella dopo Perdi soltanto tempo Perché io sono il re Di tutti Sono il re Di tutti i formati Su arena Io non ci vado A giocare Modern A giocare Non è il mio territorio Ma arena È casa Mea Questa non è Una gran mano Però Non c'ho niente Che pesca Semplicemente vomito Tre pezzi in campo Fine Che non fa Schifo No boss C'è croquets Mi pesa le palle A me Croquets Me le pesa Una volta A settimana Mi dice quanto pesano E torna la settimana dopo Anche perché I numeri parlano Chiaro Non i numeri Della live Quello non vuol di niente Stima l'inglese Non c'entra niente Quante volte io ho battuto lui E viceversa Cazzo Ecco Questo non era male Ora io pesco Tutti più grossi L'ha visti lui E questo Averlo prima Boh Si sta tipo 10 a 2 C'è una roba del genere Forse di più Ha vinto Basta Eh non ce la faccio Stare l'idea Oddio Potevo aspettare No nemmeno Perché non nemmeno Potevo pescare Boss Bistuis Per air poi Continuare In due attacchi Aveva vinto Va bene La cosa bella Di questo formato È che è rapido Cioè quello Siamo sicuri È velocissimo Oh baby La carta di D Yeah Fermi tutti Io faccio prima Prime Scarto il Conjurer E credo L'eroe Perché voglio fare Divest E il removal Me lo voglio tenere Divest Lo voglio fare Assolutamente Lo so Stavo scherzando Ma anch'io Trollo Quando Dio Mi pesa le palle Non siamo Giocatori Praticamente Allo stesso Livello Bro Le creature Ti dimenticate Devi dare rapidità Però Siamo esattamente Lo stesso tipo Di streamer Solo lui Streama in inglese E in italiano Facciamo più o meno Le stesse cose Lui sa draftare Questo ha draftato Con un criterio Ok perché il mazzo Finisce veloce Però Ce le devi avere le creature Un po' Solo peschini Ottimo No Questa è una merda L'ho ripensato ora Questa fa schifo al cazzo Ragazzi Io Io Ho La bella Facciamo gliela fa Io ho Il bacino Di utenza Di uno stato Lui di tutti Normale Eh purtroppo La devo togliere Male Forse era meglio Tenere la pescartalla Io andrei di X-Pro Com'è sta mod Eeeh Scalta la runa Bravo Uuuu E' una Un draft Con Tutto gratis E inizi con tre carte Mi sembra Abbiate Alte creature Sibile E' godlike Sto goblent E' god Yep Set the wreckage No Ok Uuuu Devo togliere la counter Fa schifo Non ci pensavo Non ci pensavo già più Che il Che avevo già visto Che l'emblema si posava In tutti e due turni 20 tentativi Morti Madonna E pazienza Convolute Via Eeeh Questa non è male Alla fine Perché la roba è molto piccola Mettiamola Decaton 10 è l'ultimo Questi sono gli ultimi due Però il 10 è buggato Non so se lo vogliono fixare O semplicemente si fa Capenna E dominaria Keep C'ho il boccato Inizio per primo E pesco Di best Pazzo Questa è worth Dai lo faccio subito E' comunque tempo Si 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 Faccio tutto Faccio tutto Dai Ah non può Piccola Piccato Due mana scarto Una carta GG No questo non glielo Rimetto in mano Porcazzo Ti faccio pescà Lodi Dunque io ho la carta Più forte del gioco Nel mazzo Cazzo Eh Ci vedo che sto mazzo È fuori testa Non la sto vedendo Ma se nel momento Se nel momento esatto In cui vedi Bistuisperer Rimane in campo Hai vinto Cioè Sì Sì Matt L'ho trovato anch'io Quello Il furbo Con le terre Ora non lo trovo più Sono troppe win Però Alla prima La seconda win Puoi trovare Quello con le terre Mario Sto trovato Amiga Il bombot Counter Me ne pentirò Me ne pentirò Fortissimo Oh cazzo Io merda No Devo pescare peschini Se no ho finito Aia Questo non è un peschino No Matte Non puoi Io posso vincere In un turno Se pesco bene Troppa roba Che pesca Cioè Se lui fa un turno Un po' più stupido E qui Doppio paro Cioè Mi basta pescare Rocks Bistuisperer E poi Ecco Vai Let's go Trenino Forza Non avere counter Però c'è Questi tesori Mi fanno venire L'ansia Non mi lamento Io non capisco Se c'è a mano E non usa Removal Se negate Godo Lo scopriremo Adesso Oh ma Vaffanculo Ma dai Ma hai pescato Il flash Ma che schifo Qui momento Hearthstone Veramente Cioè Qui momento Hearthstone Durissimo Ecco Pescavo anche bene Pesco Due Briccato Ho briccato Non ho briccato Negate Impazzisco Impazzisco Se mi fai negate Ok Non ho briccato Va bene Il comeback degli dèi Questo me lo tengo Non c'è niente Mi dà fastidio Il comeback degli dèi Zitti tutti Eh ve l'ho detto Io c'ho il mazzo Che pesca tu Mamma mia È gigante Quella Fa un culo Si riparte Oh Che cosa fai Posso non morire Criptide Un piscato Un piscato terra Non può Stai Stai calmo Eh Stai calmo Tesoro Stai calmo Che dici Che dici L'ho tenuto apposta Ho detto Minchia lo farà un missile Prima o poi Attenzione Attenzione Va a due Eh ma potrebbe Ruperarla Con due pescate Cazzo Però è figo Sto formato Io mi diverto È la Kaizo Di magic Questa No è vero Devi sapere Devi piccare in maniera intelligente Beh ho vinto Ho messo un attimo a leggere Mamma mia Rimuntada Ho fatto Zitti Boss fight La rimuntada Degli dei Per strike Anche questo Anche questo Decathlon Per strike Vai l'ho detto Dai Bisuisperer di primo Più un'altra creatura Easy Easy Conviare Shoppare il pass Sì sempre Non è male Stamano Però potrei avere Molto di meglio Secondo me Perché non mi piace Fare un Due tre passo Meglio Male Questo Inizia pescando Mi dà fastidio Beast Whisperer Dalla cima Solo bisogno Di Whisperer Carta più forte Della storia Non do tutto Costa zero Attenzione Passa Con tre carte in mano Che cazzo vuol dire Sì perché Tanto è retroattivo Cioè Cerca di giocare Parecchio No Devo far prima questo Se c'è counter No Sono un idiota Trovata Trovata Fortissimo Trovata male Male proprio Sono ancora in tempo A trovare Beast Whisperer Nelle prime Tre carte Guardalo Le combo Ma sei pazzo Cazzo in faccia Mi sta buttando Minchia Eh Mi ha rovinato Mi ha distrutto Tempo mistico Eh sì Ha fatto la combo Cazzo Ha fatto la combo davvero Distrutto Eh lo so che c'è il counter Per questo aspetto Di Fall of Theron Da avere altro Oh madonna Tutto No Ma ha distrutto Quel turno di mistico Devastato Proprio Sì sì Lui ha draftato Guarda Sono a sette Sono a sei vittorie Per forza Trovo la gente Che sta draftato Quanto pesca Quanto pesca ragazzi Eh Dai Pallo Forte eh Merita il counter Questo eh Questo lo merita il counter Bro Ok abbiamo speranza Abbiamo speranza Abbiamo speranza Boys Negate Mi impazzisco E a questo Ha perspiccato mistico E ha preso Solo Rimbalzini No Non è che ha pesca Perfetto Bisogna vedere Quanti scena Perché Effettivamente Se prendi mistico Presto Poi ci fai il mazzo Intorno C'è anche il free mulligan Ha fatto bene Questo sicuramente L'ha preso tipo Nei primi tre pick No Non puoi giocarlo Costruito Sto formato Chiudi sempre di primo Vabbè Dai Eh Dai Non scherziamo Ora c'è il boss fight Quello vero 6-2 È boss fight Prima era un Un Field boss Dai Beast Whisperer Di primo Ti prego Non chiedo tanto On the play Beast Whisperer Fammi fare l'highlight Di D All set Per strike Nemmeno una che pesca Free mulligan No Prima go blank Esatto go blank È perfetto Che ha la miglior mano Possibile Ok se questa non è counter Ho vinto Vinto GG Basta e triggeri una volta Ora lo puoi anche rimuovere Non mi fai niente Va bene Troppo tempo play Preferivo di no Poi peraltro C'ho anche il ripreschino Dal cesso Quello è solo un 5-5 Bro Tipatico Vabbè ho comunque fatto counter Praticamente Con quello non ci attacchi Sicuramente Quello vuole è fastidioso No Vaffanculo È vero Mamma mia Qui la guerra dei top deck È il primo che pesca Pesca una car Allora non mi sembra C'abbia tanti peschini lui A vederlo Sembra abbia preso tanta ciccia Prey nice Prey nice Dalla cima Canto lui Pi 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 Ma che caccia di nostra Delmus sono Dio serpente Allora Fermi Non c'ho un cazzo Sento lo gioco Come tale Ottimo 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 Dai non sculare È una buona pescata Comunque doppio Dostradelmus Dio Madonna Doppio Dostradelmus In questa partita Detto bis visper Nella mano iniziale E poi ho chiamato Il prey nice Ok Una merda Il pardini Saluto Dio Devo prendere in tempo Prima che peschi bene E recuperi Se è grosso No no Aspetta 4, 6, 8, 9, 10, 11 12, 13, 12 È little First try First try 7 wins Come sempre Il re del decathlon Il re del decathlon Che ne è solo uno Di re del decathlon È proprio lui Del model mini First try Tonico Ne manca uno solo Uno solo ne manca Uno solo Tutti first try Questo è un first try veramente Ne manca uno signori Guardali Uno, due, tre Quattro, tre Al contrario Sei, cinque, sette Otto, nove Ne manca uno E quello Buggato manca Quello più difficile Perché bisogna andare Contro le regole Delle regole Perché è buggato Ma noi lo facciamo Prima che lo sbagghino Perché siamo straforti Perché siamo straforti Mmh 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 Grazie.